Vanno avanti i lavori della pista ciclabile, ora è in atto il collegamento tra i due lotti. Sì, è la parte mancante, finanziata con 150.000 euro, sono iniziati i lavori da 10 giorni. Noi pensiamo di completare questa infrastruttura determinante per il territorio entro il passaggio del Giro d'Italia, quindi per maggio. Sarebbe anche un segnale importante di incoraggiamento in questo momento e poi la possibilità per l'estate di utilizzare una pista ciclopedonale sul lago molto suggestiva e importante per questo territorio. A questo si unisce poi la realizzazione della spiaggia, che è sicuramente un'opera straordinaria che piacerà moltissimo ai verbanesi e ai tanti visitatori, perché è una spiaggia attrezzata, con parcheggio ed è anche un bene, un servizio di cui noi avevamo bisogno come città. E poi sempre per l'estate ci saranno novità anche per Suna? Confermiamo il senso unico con interventi che stabilizzano e migliorano un po' la situazione, perché indubbiamente in questa situazione in cui abbiamo bisogno di spazi, la possibilità di avere anche i plateatici per le attività, questo fa sì che sia necessario meglio regolare il senso unico che riguarderà la prima parte di ingresso a Suna e che viene finanziato per un importo di quasi 100.000 euro, così non ci dovrebbero più essere problematiche legate ai parcheggi, alla rotonda e anche al verde che verrà in parte rivisto. In questa maniera pensiamo di sostenere il turismo e le attività che quest'estate indubbiamente hanno la necessità di ripartire in piena sicurezza, in questo caso anche dal punto di vista viabilistico.